La riorganizzazione del servizio di guardia medica Respinta la mozione sulla riorganizzazione del servizio di guardia medica, l'atto è stato presentato dal consigliere regionale di Italia Viva Stefano Scaramelli. Approvata all'unanimità, la mozione presentata da Fausto Merlotti del Partito Democratico sugli incentivi per l'installazione degli impianti fotovoltaici. La mozione per trasformare cave di smesse in bacini di accumulo, presentata dalla consigliera regionale Elena Meini della Lega, è stata approvata all'unanimità. Al via il 23 ottobre, alla stagione autunnale 2022 del Teatro di Buti, in cartellone 8 spettacoli che fino al 20 dicembre si alterneranno in orario serale e pomeridiano. Evitare che la riorganizzazione complessiva del servizio di guardia medica produca conseguenze incalcolabili sulla sicurezza sanitaria dei cittadini toscani e comporti il depotenziamento del ruolo della professione medica, pericolosi ritardi diagnostici e l'inevitabile intasamento del pronto soccorso del 118, così come l'avvilimento dell'attività del volontariato. Era questo l'impegno chiesto alla giunta regionale nella mozione presentata dal consigliere regionale di Italia Viva Stefano Scaramelli, che è stata respinta dall'Aula dopo una discussione molto partecipata. Il testo dell'atto consigliare ricordava come la riorganizzazione del servizio di guardia medica prevedesse una sospensione del servizio nella fasciolare dalle 24 alle 8 in circa 60 postazioni della regione, sottolineando come il paziente si dovrà rivolgere al centralino unico delle ASLE e successivamente a un numero unico. In base alle necessità, spiega la mozione, la centrale filtrerà poi le chiamate dei cittadini che saranno inviate alle postazioni con medico o dirottate al 188 per le urgenze. L'ipotesi di sostituire la continuità assistenziale con una sorta di call center, ha detto in Aula Scaramelli, svilisce la professione medica e mortifica nel contempo il contributo del volontariato. È una mozione che difende il ruolo dei medici, che ne attribuisce un significato e un valore alle professioni mediche, sanitarie e infermieristiche, che vuole difendere il volontariato della regione toscana e che vuole tutelare il lavoro dei pronti soccorso della Toscana. E' quindi un impianto, quello di riforma, che il Partito Democratico ha ipotizzato, che è uscito negli organi di stampa, in primis la Nazione ad agosto e poi a settembre ripreso da organi di stampa, riteniamo che sia un errore. Io ho posto con questa mozione un voto del Consiglio regionale perché desse un indirizzo raggiunto per fermarsi, perché è una riforma che va bloccata, che io a suo tempo avevo già bloccata, ho avuto la forza e il coraggio di farlo quando ero presidente della Commissione Sanità e quindi per cinque anni ho fatto in modo che questo non avvenisse. Adesso si ritorna e si tira fuori dai cassetti una vecchia impostazione che lede da una parte i territori rurali, che impedisce ai cittadini toscani di avere un sistema di emergenza, di urgenza adeguato alle proprie aspettative, che mortifica il volontariato, svilisce la professione dei medici e soprattutto rischia di intasare i pronti soccorso. Andare a togliere i medici di guardia nel territorio è un errore, perché sono un presidio territoriale e il Covid ci ha detto quanto sia importante, sostituire un medico con un call center vuol dire fondamentalmente svilire la professione sanitaria e medica. Per questo non l'abbiamo contrastata, dispiace che il Partito Democratico da solo, contro tutto il Consiglio regionale, abbia voluto difendere una riforma che a mio avviso è indifendibile. Il tema della riforma della continuità assistenziale, della guardia medica, è una cosa che si parla da anni, cioè già dalla scorsa legislatura era pronto una riforma, perché noi di notte ogni guardia medica risponde in media a due telefonate, qui si tratta di strutturare intanto un obbligo europeo, è corretto di strutturare un numero unico per la continuità che è il 116-117, quindi questo comunque va fatto. Secondariamente c'è la ristrutturazione di tutto il tema delle case delle comunità, in ogni zona ci sono almeno una casa della comunità AB che è aperta H24, quindi c'è una presenza che deve essere costruita e non ha senso mantenere una guardia medica e poi costruire una casa della comunità accanto, quindi deve essere riassorbita dalla costruzione delle case delle comunità AB. E le preoccupazioni per le aree periferiche, l'assessore quando è venuto a presentarla in commissione ha detto chiaramente che nelle aree periferiche dove c'è una lontananza da qualsiasi presidio medio viene mantenuta la presenza fisica della guardia medica, quindi lanciare gli allarmi eccetera che mi pare che sia assolutamente fuori contesto, tra l'altro ancora non è stata messa in piedi perché c'è una fase di concertazione che la Giunta sta facendo, quindi non si può che dire che è corretto sia perché i dati ci dicono che bisogna riformarlo il tema della continuità assistenziale e tutti sono sempre stati d'accordo, sia perché la procedura che sta seguendo la Giunta è una procedura di grande concertazione e di grande ascolto prima della decisione. La lettura politica non lo so, lo vedremo nei prossimi giorni, ma penso però che questo sia veramente una presa di posizione dei consiglieri di Italia Viva ma che non abbia poi ripercussione di carattere generale rispetto alla maggioranza. Abbiamo discusso stamattina una mozione a firma Italia Viva, in particolar modo del Presidente Scaramelli con la quale veniva chiesto alla Giunta regionale di retroscedere rispetto alla riforma della guardia medica. Una richiesta assolutamente sensata perché nel momento in cui i pronto soccorso scoppiano è evidente che se leviamo la guardia medica aumenta il carico sui pronto soccorsi perché non hanno i pazienti che stanno male la notte altro modo per essere curati che chiamare il 118. Ebbene, quella richiesta è stata votata da tutte le opposizioni, da tutte le minoranze in maniera convinta, dal 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma è stata bocciata dal Partito Democratico. Quindi la maggioranza non c'è più, una mozione che non avviene su una cosa di lato, su una cosa marginale, ma su un elemento centrale come la sanità e come la riforma della guardia medica. La maggioranza che sosteneva Gianni qualche mese fa non esiste più, il Consiglio l'ha certificato così come l'hanno certificato alle ultime elezioni politiche. Il recente e vertiginoso aumento dei costi dell'energia e delle materie prime, dovuto anche alla situazione di forte instabilità internazionale legata all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ha generato un impatto drammatico sui bilanci familiari, oltre che per tutto il settore produttivo nazionale e internazionale. Lo ha detto il Consigliere Fausto Merlotti, illustrando una mozione approvata dall'Aula all'unanimità che impegna la Giunta regionale ad attivarsi presso il Governo, affinché si continua a incentivare e semplificare ulteriormente l'installazione di impianti a fonte rinnovabili, al fine di sostenere l'autoproduzione di energia rinnovabile anche attraverso l'innovativo strumento delle comunità energetiche, fornendo a tal fine regole chiare da seguire sia per le amministrazioni che per imprenditori e cittadini. Sono molto soddisfatto personalmente, come gruppo del Partito Democratico lo siamo, per l'approvazione avvenuta oggi in Aula della mozione che impegna la Giunta regionale a semplificare ulteriormente, ad intervenire rispetto a tutte quelle norme e regionali e di carattere nazionale, impegnando appunto il Governo ad una semplificazione, affinché le persone, i cittadini ma anche le imprese possano avere meno lacci lacciuali possibili e anche le amministrazioni comunali nel rilasciare tutte quelle autorizzazioni affinché sia possibile con celerità avere impianti a fonte rinnovabili per la produzione di energia elettrica di cui abbiamo tanto bisogno. Era una mozione che era qualche mese ferma in Aula per la discussione e l'approvazione, io poi l'ho riproposta, ora i primi di settembre, ed oggi finalmente l'Aula all'unanimità, questo lo voglio riconoscere, con quindi la partecipazione fattiva anche delle opposizioni, ha raggiunto questo obiettivo. Valutare l'opportunità di procedere ad una preliminare individuazione delle aree dismesse che potrebbero essere idone a diventare bacini di accumulo per far fronte ai periodi di siccità e di promuovere un percorso istituzionale con gli enti locali, finalizzato all'individuazione delle procedure atte a garantire gli interventi necessari e trasformare i siti potenzialmente idonei in bacini di accumulo. Questo l'impegno chiesta la Giunta regionale nella mozione presentata da Elena Meini, approvata con un voto unanime a seguito dell'accoglimento di emendamenti presentati dal consigliere Mario Puppa. Nella premessa si ricorda che in Toscana sono presenti, secondo l'elaborazione su dati Istat, ben 2400 cavi dismesse o abbandonate e che si tratta del terzo valore più alto d'Italia dopo Lombardia e Puglia. Auspichiamo che oltre a una mozione già precedentemente presentata su soltanto i bacini di accumulo in Toscana ci sono circa 2400 cave, altre regioni lo hanno già fatto e anche in Toscana si chiede un censimento di queste 2400 cave, la visione, la rivisitazione per far sì che alcune almeno di queste cave possano diventare dei veri e propri bacini di accumulo. L'emergenza idrica che abbiamo attraversato in questo periodo estivo ha messo in ginocchio moltissimi agricoltori, diverse attività produttive e quello che noi auspichiamo è sicuramente che nella prossima estate questo non si ripeta più, quindi abbiamo tutto un periodo, diciamo, tunnale, invernale davanti per poter valutare queste cave come bacini di accumulo e cercare di risolvere per la prossima estate questo problema che ha travolso non solo questa regione. Inizia il 23 ottobre la stagione autunnale 2022 del Teatro di Buti in provincia di Pisa, in cartellone otto spettacoli che fino al 20 dicembre si alterneranno in orario serale e pomeridiano. Di luogo in luogo è il titolo della rassegna, a sottolineare che le rappresentazioni a causa del lavoro di ristrutturazione del Teatro Francesco di Bartolo si terranno in due spazi diversi, la Sala di Bartolo e il Teatro Vittoria a Cascine di Buti. I lavori, grazie al progetto Ecosistema Culturale Valdera Nord Montepisano, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, permetteranno il restauro conservativo e il miglioramento dell'efficientamento energetico del Teatro di Bartolo. Il programma del cartellone, che spazia da dialoghi tra protagonisti della letteratura russa, racconti e testi di autori italiani contemporanei, da riduzioni drammaturgiche di classici greci a redattamenti di opere di scrittori del Novecento, è stato presentato durante una conferenza stampa nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. Questa è un'iniziativa a cui tengo molto, in particolare Buti è un po' il paesino che mi ha adottato, arrivato in Toscana ed è un luogo vitale in cui il fermento culturale è importante, tante le iniziative, questa è la più importante, raccontare la stagione teatrale, che quest'anno sarà un po' particolare anche perché il teatro inizierà un'opera importante di ristrutturazione per renderlo più moderno, più accogliente, perché oggi il messaggio che vogliamo mandare di qui con forza è che più investiamo in cultura più costruiamo libertà, più investiamo in cultura e più rendiamo i cittadini consapevoli di conoscere quello che accade, quello che li circonda. Investire in una stagione teatrale, in una realtà così piccola ma in cui il fermento culturale è forte dà il segno di qual è la strada da dover perseguire. Quindi un grazie a tutti, a chi ogni giorno con fatica, impegno, prova a costruire una stagione di alto livello, un grazie all'amministrazione comunale che ci crede sempre da tanti anni e penso che questo sia un messaggio forte che dobbiamo mandare, costruire iniziative, momenti culturali, teatrali diffusi sul nostro territorio, ci sono tante esperienze belle e bisogna provare a metterle in rete. Il luogo in luogo è la nuova stagione teatrale del Teatro di Buti, la stagione 2022 che ritorna finalmente in presenza nei teatri. È per noi una vera e propria ripartenza a tutto tondo dal periodo che, come tutti sappiamo, abbiamo passato dal Covid. La caratteristica di questa stagione è quella che andrà a visitare due luoghi particolari teatrali e culturali del nostro comune e sarà un percorso, un percorso fra i luoghi, un percorso fra tematiche culturali e teatrali. Vi invitiamo tutti a seguire la nostra stagione perché è veramente un grande livello teatrale e culturale ed è per noi un momento di grande vanto e di grande importanza per tutto il nostro territorio. Quest'anno cominciamo di nuovo a fare teatro, come ha detto già il nostro assessore, e ci fa molto piacere farlo in luoghi diversi dal teatro normale, che ci dà delle opportunità nuove di messa in scena. Per cui è un percorso, da una parte che all'inizio abbiamo pensato difficile, poi invece abbiamo trovato che ci sono delle soluzioni nuove, incredibili, straordinarie, che possano riportare la gente ad amare il teatro attraverso dei percorsi che sono quelli che ama molto il teatro, cioè misteriosi, segreti, lontani, che bisogna cercare, perché il teatro è qualcosa che va cercato attraverso una fatica anche personale per ritrovare di nuovo un'anima, che è l'anima dei luoghi, che è l'anima degli attori, che è l'anima anche degli spettatori. Gli spettacoli che noi presentiamo sono per ora otto spettacoli, e partano da ottobre fino a dicembre. Cominciamo con Luca Scarlini, che noi tutti conosciamo, che è questo picco della mirandola, diciamo, in tutti i settori che ha affrontato. E poi abbiamo un incontro su Dostoievski, su uno spettacolo che è legato a Fratelli Karamazov. E poi ancora una che ha partecipato, che è Sergio, che è stata candidata al premio Ubu come migliore spettacolo teatrale, ma non è tanto degli spettacoli che voglio parlare, quanto del fatto che, come ho già detto, che va cercato questo teatro e di nuovo va trovato un senso profondo ad andare davanti al teatro, non è quello del semplice intrattenimento, quello lo sa fare molto bene la televisione, questo è chiaro. Noi siamo per qualcosa che ci tocchi nel profondo.